Giornate intense per il Suem 118 di Crespano, Pieve del Grappa, che oggi è stato chiamato per un problema con un escursionista in Val di Lebia. Ma mentre percorreva il sesto tornante sulla strada General Giardino, che porta a Campocroce, un'altra chiamata li ha fatti fermare per soccorrere una signora 34enne, che mentre era alla guida con a bordo un bambino e il suo cane, si era sentita male, con improvviso calo di pressione. Il colpo di calore l'aveva fatta iperventilare, aveva avuto una crisi di panico. Soccorsa è stata attesa all'altra ambulanza che l'ha portata all'ospedale di Castelfranco Veneto. E via per i soccorritori Suem 118 di Crespano, che hanno quindi proseguito la corsa per un escursionista, 71enne di San Zenone, con un picco di pressione alta, che l'aveva visto perdere molto sangue dal naso, vista una recente operazione a setto nasale. Il paziente è stato trasportato all'ospedale di Montebelluna.